Collane, bracciali e altri monili esposti sulle bancarelle sono spesso impreziositi da pietre grezze o lavorate. Il quarzo, composto da solicio e ossigeno, è molto apprezzato e il suo colore cambia se sono presenti altri elementi al suo interno. Ma qualunque sia il colore, un cristallo di quarzo ha sempre una forma allungata e appuntita, anche se variano dimensioni e proporzioni. La forma di uno specifico minerale è chiamata abito cristallino, che per il quarzo è un prisma esagonale con due romboedri ai vertici. La fluorite, invece, può avere un abito cristallino cubico. L'abito della magnetite è ancora diverso, è un ottaedro. Ogni minerale, in pratica, ha il suo abito cristallino. Ciò nonostante, gli abiti sono tanti, ma non infiniti. E il perché di queste forme è custodito al loro interno. L'abito cubico del salgemma non è altro che il risultato della ripetizione regolare e ordinata dei due ioni che lo compongono, cloro e sodio. A causa delle loro dimensioni e caratteristiche elettrochimiche, il cloro e il sodio si dispongono formando una struttura cristallina, nella quale ogni atomo occupa una posizione specifica e mantiene invariate le distanze dagli altri atomi. Questa struttura ha dimensioni infinitesime. Ripetendosi per miliardi di volte, genera una disposizione allineata degli atomi, che è comunemente chiamata reticolo cristallino del minerale. Se le condizioni lo consentono, il reticolo cristallino cresce tanto da formare un grande cristallo. Oltre al cubo esistono molte altre forme semplici. Queste altre forme si generano perché esistono atomi diversi per dimensioni e struttura elettronica e numerose sono le combinazioni possibili. Le forme semplici a loro volta possono combinarsi tra di loro. Un cubo e un rombo dodecaedro possono combinarsi in una nuova forma composta. Ma se il cubo si compone con l'ottaedro, la forma composta è diversa. Può accadere che forme semplici si combinino insieme creando una forma estremamente complessa. Le forme semplici possibili sono varie decine e sono distribuite in 32 classi, ripartite in 7 sistemi, che fanno capo a 3 gruppi, in cui ricadono tutti i minerali. In natura alcuni cristalli sono così piccoli da poter essere individuati solo con strumenti adatti, come in questo basalto. Ma altri, come questo cristallo di pirite, sono abbastanza grandi da permettere di riconoscere facilmente tutte le facce, e le facce sono importanti. Nei cristalli le facce individuano le direzioni lungo le quali si sono formati i legami tra gli atomi. Dunque gli stessi legami si rompono più facilmente lungo le medesime direzioni, una caratteristica chiamata sfaldatura. Per sfruttare la sfaldatura i gemmologi studiano a lungo la pietra grezza prima di tagliarla. Poi, una volta ottenuto un frammento adatto alla lavorazione, con l'operazione di politura si modellano le numerose faccette, levigandole con polvere di diamante finissima. Solo così, da ogni diamante grezzo, è possibile ricavare un brillante perfetto.